Siete pronti? Carichi? Allora che emozione è fare lezione qui? Avreste mai immaginato di venire in piazza del Duomo a fare una lezione di danza? Neanch'io, neanch'io. Ho attraversato questa piazza un sacco di volte per andare a lavorare al teatro alla scala e non avrei mai immaginato. Va bene, allora un enorme grazie a Ondensa, Roberto, per questa magnifica opportunità. Salutiamo chi ci segue da casa e a questo punto direi che possiamo cominciare. Ok, occupate tutto lo spazio. Abbiamo una pedana enorme, perciò tutto lo spazio. Vai, vai, allargatevi, allargatevi bene, in fondo, in fondo. Dovete avere ognuno di voi uno spazio per potersi muovere. Iniziamo con qualche esercizio a terra, seduti. Ok, non troppo vicini, bimbi, se no vi date fastidio. Non vi preoccupate, c'è spazio per tutti. Lo so che qui è l'unico punto con l'ombra, ma allargatevi. Dai, coraggio, coraggio. Bravissimi. Allora, iniziamo. Vi faccio vedere l'esercizio velocemente, siamo a terra. Incrociamo le gambe. Schiena lunga, iniziamo a sgranchirci piano, 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 anche se c'è già un sole, siamo già caldi però. Ok? Allora, andiamo. Mi seguite? Due, tre e pugno. Vai. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo e allungo alla seconda. E, flex polso. Due, tre e ancora uno. E adesso salgo e ruoto in fuori. Uno, due, tre, tre, arrivo al quattro e ritorno in dentro. Solo tre e cambio braccio sinistro. Vai. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Seconda. Giù bene la spalla, eh? Flex. Su. Ancora uno. E ruoto. Il braccio. Il braccio sale ma la spalla è ferma. Tre, quattro. E ritorno in dentro. Due, tre, scendo. Spalla destra e salgo. Uno. Rilasso. Sinistra. E insieme. Giù. Tutto il giro ande ori in fuori. E arrivo e ancora. Uno. In fuori. Ripeto. Salgo. Sì. Insieme. E dentro questa volta. Da dietro. Avanti. E ancora uno. Piccoli torte bra. Braccia in prima. e scendo. Prima. Purtroppo alta la prima. Prima. Apro seconda. E una luce. E scendo. Vai. Terza. E torno. Terza. E torno. Terza. E torno. Terza. e scendo. Bene. Allora, un passo indietro. Vai, vai, vai. Vai. Bravissimi. Bravissimi. Allora. Secondo esercizio. Stendiamo le gambe avanti. Ancora un pochino indietro. Poco, poco, poco. Vai, vai, vai. Vai. Molto bene. Ok. Facciamo. Questa volta. Gambe stese. Piedi stesi. Le braccia alla seconda. I polpastrelli. Sfiorano il pavimento. Pieghiamo la gamba destra. e stendiamo facendo pressione con le dita al pavimento. Due volte destra. Due volte sinistra. Insieme. Abbraccio le ginocchia. Rimango, rimango, rimango. Approfitto per allungare la colonna verso l'alto e spingere avanti la zona lombare. e estendo ancora una volta. Due gambe. Estendo. Ripetiamo tutto con parallelo. Questa volta lascio cadere alla seconda. Vedete perché dovete stare un po' larghe? Perché se no vi date noia. Dai, allargatevi. Coraggio. E tutte con la gambina destra prima. Torno e parallelo. Uno, due, tre, quattro. Sinistra. Sinistra. Due gambe insieme. Apro. I talloni rimangono spinti avanti. Non li appoggio al pavimento. Rimango, rimango. Stendo parallelo. Ancora una volta. Stendo parallelo. Per finire. Chiudiamo di nuovo le gambe. Questa volta appoggiamo i talloni al pavimento e strecciamo un pochino la schiena. Ci lasciamo andare avanti. Ok? Importantissimo. Non, quando c'è il momento del piegamento del ginocchio, non mi fate questo. Ok? Allungatevi verso l'alto. Vai. Gambe lunghe. Braccia alla seconda. Vai. E piego. Destra. E striscio e schiaccio le dita. Ancora. E schiaccio e stendo. Sinistra uguali. Piego. E stendo. Lunghissima la schiena. E stendo. Molto bene. Insieme. Stavolta è lento. Stavolta è lento. Piego. Abbraccio le ginocchia. Approfitto per allungare. Lunghissima. E stendo. Ancora. Piego. Abbraccio. Lunghe lunghe lunghe. E stendo. Piego. Abbraccio. Piego. Abbraccio. Scendo. Giro. Ancora una volta. Piego. Abbraccio. Spendo. Giro. Sinistra. Ruoto. Ruoto. E stendo. Ancora. Insieme. Piego. E questa volta insieme. Su, 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 talloni. Spendo. Spendo. Schiena lunga. E mantengo bene l'andriore. Ruoto. Ancora una volta. E apro. E stendo. E ruoto. E ritorno. E strecciatevi un pochino in avanti. Giù, 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 giù. Bravissimissimi. Ok. Caldo? Sì, eh? Vai. Scaldiamo l'articolazione delle caviglie. Cominciamo a usare bene i piedi. Facciamo piedi gambetese, piedi tesi. Quindi questa volta possiamo mettere le mani sui fianchi. Sentiamo bene schiacciare giù. Ok? Come se ci appoggiassimo a un tutù. Lunghissime. Mezza punta. Flex. Mezza punta. Scendo. Due volte. Terza volta. Mezza punta. Flex. Apro in prima. Dalle anche la rotazione. Rimango, rimango, rimango. Stendo e ruoto. Ripetiamo la seconda volta. Due volte. La terza con apertura. Torsione verso destra. Ritorno. Sinistra. Ritorno. Destra. Ritorno. Sinistra. Ritorno. Sette piedi alternati in flex. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Ritorno. E ripetiamo. Torsione. Due. Tre. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Nella torsione, mi raccomando, mantenete i fianchi allineati a un fas. Ok? Non vi sollevate. Pronti? Vai. Mani sui fianchi. e mezza, flex, mezza, stendo, mezza, flex, terza volta, mezza, flex, apro prima, rimango, stendo le ginocchia, stendo e parallelo ancora, mezza, flex, controllate bene le caviglie che sienano in linea con la tibia, mezza, prima, stendo le ginocchia, di più, di più, di più, di più, di più, e stendo parallelo, giro destra, sinistra, destra, sinistra, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ritorno ancora a destra, sinistra, ruoto bene, giù, giù, rilassate un attimo, allungate, lasciate andare un attimino la schiena, molto bene, srotolo, salgo, e andiamo alla sbarra, vai. Potete bere un goccio d'acqua, eh, nel frattempo, mentre mettono le sbarre, wow, che bravi. Vai, vai, vai. Ok, sì. Ce la fate? Andiamo. Uh, attenzione, scusa. Andiamo. Come l'abbiamo messa, qui? Un pochino più su, bimbe, oltre questa riga, più su, bravissime, qui. Ok, solo tre, ne eliminiamo una, quella in mezzo. Via, la mettiamo indietro. Vai, 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 vai. La mettiamo qui, perché sennò siete troppe, quattro file. Vieni davanti, vieni. Aspettate, ci sta? Ci sta lei qui? Allora, facciamo così, facciamo un piccolo spaziettino, vai un pochino indietro, che sei piccinina. Ok, sì, puoi stare qui, che sei un pochino più alta, va bene? Un pochino indietro, e indietro. Ok, non troppe per sbarra, eh. Non troppo vicine, anche qui. Ce la fate? No, non ce la fate. Io direi quattro, quattro per sbarra, non di più. Ok, uno di qua, vieni. Bravissimo, allargatevi. Sennò come facciamo a fare gli esercizi? Vi date solo che fastidio. Qualcuno si può mettere qui, questa sbarra è vuota, da questo lato. Bravissima, bravissima, anche qui. Tu vieni qui, guarda, così state tutte più larghe. Ci siete là in fondo? Passate anche dall'altra parte della sbarra, se siete troppo strette. Ok, perfetto. Va bene, bravi. Ok, iniziamo. Facciamo il primo esercizio, due mani alla sbarra. Ve lo faccio vedere velocemente. Sesta posizione. E facciamo. Mezza punta destra. Sinistra. Destra. E appoggio i due piedi. Re leve insieme. Scendo. Re leve insieme. E scendo. Ripeto ancora. Destra. Sinistra. Destra. Appoggio. Plie. Mezza punta. Salgo. Scendo e apro prima. Prima comoda, eh? Tandio avanti. Fur le pie. Stendo. Chiudo. Seconda. Fur le pie. Stendo. Chiudo. Dietro. Chiudo. Seconda. Passaggio alla seconda. Trasferisco il peso e chiudo. tutto a sinistra direttamente dal batte montandu. Ritorno. Chiudo in sesta. Una piccolissima cambrè. Cambrè fin sotto alle scapole non di più. Quattro tempi. Quattro tempi. Salgo. E una flessione laterale. Verso destra. Ripeto. Sinistra. Ritorno. Flessione laterale. E scendo. Ci siete? Vi suggerisco. Promesso. Ok? Sesta posizione. Vai. Sentiamo bene l'allineamento. Ok? La lunghezza della schiena, della colonna. Verso il cielo. Stendiamo bene le ginocchia. Spingiamo bene i piedi al pavimento come se fossero delle radici. Testa ferma. Spalle aperte. Pancino dentro. Testa dritta. Lunghissime. Vai. Destra. Mezza. E sinistra. E destra. E scendo. Insieme. La discesa è lenta. E su. E scendo. Ancora destra. E sinistra. Destra. Scendo. Pie. Mezza punta. E insieme salgo. Scendo a pro prima. Batman. Tandia avanti. Pur le piede. Stendo. Chiudo. Vai. Seconda. Tutto il piede striscia. e stendo. Chiudo. Vai indietro. Il tallone al pavimento. Flex. Stendo le ginocchia. Bravissime. Tando seconda. Pli è in seconda. alzo il busto. Alzo il busto. Trasferisco. E iudo. Tutto a sinistra. Batman. Tandia avanti. Nel flex aumento ancora di più la rotazione. Approfitto. Chiudo. Seconda. Flex. Gamba di terra forte. Dietro. Flex. Stendo. Chiudo. Tando seconda. Pie. E chiudo in sesta. Vai. Destra testa. Piccolo cambrè. E ritorno. Vai alla seconda. Flessione di lato. E torno. Sinistra. Vai, vai. Piccolo cambrè. Ritorno. Braccia alla seconda. Salgo. Vado di lato. Apro. E chiudo. Molto bene. Molto bene. Ci state? E allora se dici di no, ti devi assolutamente spostare. Perché hai visto che fare così la sbarra non è comodo. Chi si è trovato un po' troppo stretto, si sposti. Ok? Andiamo avanti? Bravissimi. Allora, facciamo un demi-plie. Faccio vedere velocemente con la musica. La musica che si è impallata. Scusatemi. E in prima posizione. Dita. Stacco. Dita. Scendo. Dita. Stacco. E appoggio. Un bel demi-plie. Plie. E salgo. Ancora. Demi-plie. E stendo. Piede sinistro. Mezza. Dita. Mezza. Scendo. Mezza. Dita. Mezza. Scendo. Gran plie. Lento. Due. Tre. Arrivo al quattro. E cinque. Sei. E vado in seconda. Ok. Allora. Prima posizione. Mezza punta. Dita. Mezza punta. Scendo. Mezza punta. Dita. Mezza punta. Scendo. Due demi-plie. In prima posizione. Ripeto tutto. In seconda. Con l'al piede. Sinistro. Un gran plie. In quattro tempi. Uno. Due. Tre. Quattro. Due tempi. Per salire. Batmantan di seconda. In seconda. Solo due demi-plie. E un gran plie. Chiudo quinta. Due demi-plie. Un gran plie. Un gran plie. Batmantan di. Chiudo dietro. Sinistra davanti. Due demi-plie. Un gran plie. Mi allontano dalla sbarra. Gambe parallele. Tiro, 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 tiro la schiena. Due volte demi-plie. E stendo. Allora. L'esercizio è molto semplice. Ho un problema con la musica. Grazie mille. L'esercizio è molto semplice. Sono solo demi-plie e gran plie. Però proprio per questo ci concentriamo bene sull'esecuzione del plie e del gran plie. Ok? Durante il demi-plie il corpo, il busto sale. Mentre c'è la flessione delle ginocchia, verso il pavimento, una forza opposta verso il cielo. Ok? Vi voglio vedere lunghissimi. Si tiene la muscolatura, si sale, senza flosciarsi. Ci siete? Vai! Prima posizione. Piedino destro e mezza punta. Stacco dita. Mezza. Scendo. Molto bene. Come se fosse un salto. Dita sotto di voi. Bravissimi. Plie. E adesso salgo. Allungatevi, allungatevi durante il plie. Il busto sale. E là. Piede sinistro. Mezza. Punta. Mezza. Scendo. Mezza. Punta. Mezza. Scendo. Gran plie. Uno. Due. Tre. Adesso arrivo e salgo. Dando in seconda. Bravissimi. Due plie. Più lento. Con il plie. Trattengo. Salgo. Salgo con la schiena. Estendo. Gran plie. Arrivo. E adesso salgo. Tandù. Quinta. Destra avanti. Plie. Estendo. Del plie i polpacci non sono uniti. Vai. Plie. Stacco i polpacci. Gran plie. Piano piano arrivo adesso. Vai vai vai. Giù un gran plie. E salgo. Tandù. Chiudo dietro. Plie. Plie. Salgo. Ruoto la gamba dietro. Il ginocchio. Spinge laterale. Plie. Plie. Salgo. Gran plie. Vai vai vai. Aduttori. Tandù. Chiudo. Mi stacco dalla sbarra. Parallelo. Tiro tiro questa schiena. Vai. Tiro tiro. Apri un po' le gambe. Bravissima. Demi plie. Plie. E stendo. Tieni plie. E stendo. Schiena piatta. Piatta. Posso appoggiarci un bicchiere di Coca Cola. Giù la testa. Bravissime. Tiro 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 tiro. E srotolo. Salgo. Molto bene. Ok. Plie potevate farlo meglio. Sono sicura. Qualcuno ci ha pensato. Qualcun altro ha fatto solo questo. Invece di trattenere. Trattenere. Come se il busto tirasse verso l'alto e le gambe si devono piegare. Sempre così il demi plie. Ok. Non è un esercizio facile. È difficilissimo il demi plie. Ok. Vai. Bat mantendu. Facciamo. Davanti. Seconda. Anfas. Ci giriamo e facciamo dietro seconda con due mani. Ci siete? Faccio vedere l'esercizio. Sono qui. Due. Tre. Quattro. E tangio avanti. Chiudo. Avanti. Chiudo. Demi plie. Striscio quarta. Stendo. Chiudo. Tre alla seconda. Seconda. Chiudo dietro. Seconda. Chiudo avanti. Seconda. Chiudo dietro. E mi giro due mani. E ripeto. An arriere. Un tangio. Chiudo. Un altro. Chiudo. Demi plie. In quinta. striscio quarta. Chiudo. Chiudo. E ritorno sulla gamba di terra. Chiudo. Tre tangio alla seconda. Davanti. Dietro. Davanti. Ok? Vi faccio girare. Per eseguire il dietro. E poi vabbè la seconda di conseguenza. Per controllare bene. Quadrato. Delle spalle con i fianchi. Ok? Perché con una mano spesso succede questo. Invece noi dobbiamo controllare al massimo che le spalle siano sopra i fianchi allineate. E il fatto di farlo due mani vi aiuta. Andiamo. Vai. Solo destra. Destra davanti. Due. Preparo. E apro seconda. Vai. Tanti avanti. Chiudo. La testa rimane. Fuori. L'altra gamba. Chiudo. Demi plie. Striscio in quarta. E piede attivo. Chiudo. Tra la seconda. Apro seconda. La stagamba. Chiudo. Come lei? Apro seconda. Chiudo. Molto bene. Apro seconda. Chiudo dietro. E giro due mani. E controllo. Quadrato. Tanti dietro. Destra. Chiudo. Tallone al pavimento. Ruoto bene la coscia. Plie. Striscio in quarta. E stendo. Chiudo. Seconda. Chiudo. Seconda. Chiudo. Guardare per terra. Seconda. Chiudo. E ritorno. Come sono partita? Ok. Allora. Adesso facciamo sinistra. Vi voltate. Prima ha lavorato sempre la gamba destra. Davanti. Seconda. E dietro. Adesso lavorerà la sinistra. Davanti. Seconda. Giro. Dietro. Ok. Fatemi vedere bene che dalla quarta posizione il piede schiaccia il pavimento. Prende la spinta e si stende. E il peso ritorna sulla gamba di terra. Sinistra. Due. Preparo. E apro. Tando avanti l'altra gamba. Chiudo l'altra gamba. Questa gamba. E chiudo. Demi plié. Vado quarta. L'altra gamba. Questa gamba. L'altra. Seconda. Questa gamba. La sinistra. Adesso. Apro. E chiudo. Apro. Chiudo e giro due mani. Va. Dietro. Dietro. E chiudo. Dietro. E chiudo. Demi plié. Vado quarta. Estendo. E chiudo. Seconda. Chiudo. Seconda. Passo dalla prima e vado quinta. Seconda. Prima quinta. E ritorno. La. Ok. Grazie. Avevate ragione. Ok. Però allora avete sbagliato la prima volta. La prima volta l'esercizio lo dovevate fare di schiena. Usando la destra. Adesso ora la sinistra. Ci siete? Allora. Dove iniziamo la prima volta? Così. Di schiena. E utilizziamo per lavorare la gamba destra. Benissimo. Cette. Sempre davanti. Seconda. E giro due mani. Due. Preparo. Quattro. E scette. E quinta. Scette. Quinta. Cude piede. Parto dalla pè. Appoggio. Quinta. Tra la seconda. Chiudo dietro. Seconda. Chiudo avanti. Seconda. Chiudo dietro. E mi giro. E ripeto. Dietro. E chiudo. Dietro. Chiudo. Cude piede. Parto. Develo. P. Appoggio. Chiudo. Seconda. Chiudo avanti. Seconda. Chiudo dietro. Seconda. Chiudo avanti. E ritorno. Ok? Attivo è questo getté. Non voglio vedere piedi molli. Gambe molli. Pressione di tutto il piede al pavimento. Piede. Pianta del piede. Tutto quanto. Quando il piede non ce la fa più. Si stacca veloce dal pavimento. A 35 gradi. Non troppo alto. Un pochino troppo alto. 35 gradi. E stendi le dita. Guarda che queste dita non vanno in su. Stendi le fortissime. Fortissime. Esatto. Senza guardare per terra. Ci siete? Sinistra di base. Destra davanti. Quinta posizione. No. Ma ragazzi ve lo ho spiegato adesso. La prima volta. Di schiena. Bravissimi. La destra è davanti. E la sinistra di base. Andiamo. Vai. Scusate. Due. Preparo e apro. Vai. Cette. E quinta. Cette. Quinta. Cude piedi. Fuori. Appoggio. Quinta. Seconda. Chiudo dietro. Seconda. Chiudo avanti. Seconda. Chiudo dietro e mi giro due mani. Sempre dietro. Gette fuori. Chiudo. Coshan de or. Come se ci fosse la mia mano che mi spinge cu de piede. Sviluppo. Appoggio. Chiudo. Vai. Seconda. E chiudo. Seconda. Chiudo. Seconda. Chiudo. E ritorno in posizione dell'inizio. Brave. Brave. Dietro dovete sentire la mia mano. È come se la mia mano facesse pressione sulla vostra coscia per mantenere l'andeore. i fianchi allineati. Non uscite da qua. Ruotate. Sono le dita che partono. Nella coscia rimane andeori il più possibile nell'uscita. Sinistra. Vai. Destra di terra. Sinistra. Navan. Destra di terra. Sinistra. Navan. Vai. Spingo questo piede. Spingo. E chiudo. Dita forti. Spingo. E chiudo. Q de piee ruotato. Rimane ruotato. Appoggio. E chiudo. Vai. Seconda. Questa campina. Chiudo. Questa gamba. E chiudo. Seconda. Chiudo dietro. Molto bene. E mi giro due mani. Dietro. Vai. Più attivo piede. Più attivo. Q de piee. Apro. Appoggio and de or. Chiudo. Vai. Seconda. Stop. Chiudo avanti. Stop. Pietro. Stop. Avanti e giro e ritorno in posizione. Testa fuori. Ok. Un po' di pasticci con le direzioni, ma ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, io direi, possiamo andare tranquillamente in centro, perché lo stretching con la gamba sulla sbarra non ci starete mai, perché siete troppi, siete troppo vicini. E allora, io direi che possiamo andare in centro. Togliamo le sbarre. Bevete, eh. Se avete sete, bevete un goccino di acqua. Ora, fammi segnali per capire se devo cambiare musica o no. Comunque mamma non si lo manca, non lo ho trovato, solo che va un filo più grande. Bevete. Sono più bellini. Sono bravi. Indietro, indietro, un pochino indietro. Bravissimi, larghi, occupate tutto lo spazio. Vai. Ci siete? Larghissimi, giù, 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 laggiù, vedo due poverine, non le possiamo lasciare da sole. Vai, raggiungete le bimbe in fondo. Ok. Vai, 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 tutto lo spazio di questa meravigliosa pedana, vai. Adesso nessuno ha l'ombra, perciò questo punto qui non è più supergettonato come prima. Non c'è più l'ombra, in nessun punto. E allora allargatevi. Forza, 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 forza. Vai. Ora. Facciamo una prima comoda, una prima posizione comoda. Allargatevi. Non state incollati. Forza, forza. Vi vedete tutti. Ci sarete tutti, tutti, tutti. Facciamo un port de bras tutti insieme. In una prima comoda, ve lo faccio vedere velocemente, allonge, braccio destro, chiudo. Mi giro così almeno. Braccio sinistro, 45 gradi, chiudo. Braccia in prima, apro in seconda, allonge e chiudo. Arrivo fino a 90 gradi, col destro non di più, scendo. Sinistro, scendo, vado in prima, salgono in terza, solo il braccio destro si chiude, in avanti, in prima e apre alla seconda. Braccio sinistro, apro la seconda, allonge, chiudo. Gamba destra avanti. Mi giro nella posa croisé, preparo. Secondo port de bras, alla seconda, allonge, un braccio scende, l'altro sale, insieme. Apro, ancora una volta. Arrivo, chiudo e apro. Allora, la prima volta, andate un pochino indietro, lo faccio davanti a voi. Poi lo fate un'altra volta da soli. Ok? Ci siete? Vai. Prima posizione comoda. Eh, lo so, fa caldo. Mi raccomando, eh? In tutti i port de bras la spalla rimane dietro, eh? La scapola non si muove, non partecipa. Il braccio può fare qualsiasi cosa, la spalla rimane ferma. La scapola agganciata, la gabbia toracica. Ok? Pensate bene, concentratevi bene su questa cosa. Vai. Una bella prima comoda, non troppo aperta. Mani belle, morbide, rotonde, le dita allonge. Sce, e ritorno, e sinistra, e ritorno. Vado in prima, seconda. Sostengo bene i gomiti, allo scè, e chiudo. Ancora 90 gradi destra, e giù. E sinistra, e scendo. Vado in prima, salgono in terza, ma le spalle rimangono indietro. Braccio sullo destro, e apre seconda. Sinistro, seguo la mano, e allonge. Esce, esce, piede destro avanti, piccola posa, e preparo. Parlo, apro, e lato. Chiudo le insieme in prima, e ritorno. Ancora una volta, la in seconda. Siete stati bravissimi, allora. L'applauso dimostra che siete stati bravissimi. E allora me lo fate vedere. Da soli? Ce la fate? Dai, vi suggerisco lo stesso. Una volta da soli. Voglio vedere un port de bras corretto, sì, mi interessa. Ma voglio vedervi belli, sereni, con un bel sorriso, con un viso sereno. Perché ricordatevi che la tecnica è importante, ma se poi non c'è tutto il resto, ok? Perciò sentiamo la musica. Cerchiamo di essere con la musica, di emozionarci, di emozionare chi ci sta guardando. Ok? Non delle mumie serie, solo con paura di sbagliare. Assolutamente. Quello che arriva è altro, eh? Ok? Vai, da soli. Prima posizione. Sereni. Molto bene. Vai. E destra, longe. E chiudo. E sinistra. E chiudo. Braccia in prima. Seconda. Vai, un sorriso. Allonge. E chiudo. Bravissimi. 90 gradi. E scendo. E sinistra 90. E scendo. Braccia in prima. Vado in terza. Molto bene. Anche dietro. Solo braccio destro che apre. Bene. Mi è arrivato il sorriso fin laggiù. Sinistro. E apro. E allonge. E chiudo. Striccio il piede destro avanti. Posa. E preparo le braccia. Vai. E secondo portebraio. Salgo. Chiudo in prima. E ritorno. E ancora. Apro. E arrivo. E chiudo. E... Cosa? Ok. Benissimo. Non importa. C'era chi era con l'altro braccio. Non importa. Però. Molto bene. Molto bene. Ci avete provato. Ricordatevelo. Ok. Allora. Adesso ci facciamo un esercizio un po' simpatico. Per allenare il colpo di testa. Lo spot. Che poi. Chi... Chi sa dove mi servirà questo colpo di testa. Quando dovrò usare bene il colpo di testa. Per fare che cosa? Vai tutti insieme. Bravissimi. Le pirouette. Fondamentale. Ok. Allora. Gruppo unico. Signorini. Gruppo unico però. Qua in mezzo. Una linea che divide il gruppo unico in due. Ta 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 ta. Bravissimi. Esatto. Primo gruppo. Secondo gruppo. Allora. Pronti? Ve lo faccio vedere con la musica. Primo gruppo. Quattro volte. Secondo gruppo. Quattro volte. Primo gruppo. Quattro volte. Un'altra cosa. Secondo gruppo. Quattro volte. Un'altra cosa. Adesso ve lo faccio vedere. Capite? Ok. Però ci dividiamo così. Siamo in sesta posizione. Le mani sono sui fianchi. Due. Plie. rilevo. E verso destra e arrivo a testa. Lascio sguardo e arrivo. Ancora. E arrivo. Quarta volta. E arrivo. Voi fermi e voi. Ancora uguale. E ritorno. Vado. E ritorno. Terza volta. Vai. E ultima volta. Primo gruppo fa. Plie. Giro intero. Plie. Stendo. Plie. Giro intero. Plie. Stendo. Terza volta. Plie. Giro. Plie. Stendo. Secondo gruppo. Stessa cosa. Ci siete? Allora. La prima volta. Mentre le gambe fanno un piccolo padebure sui V. Sempre unite. Salgo. Comincio a girare il corpo. Lo sguardo rimane a un fasso. Non inclinazioni di testa. La testa parte per ultima e arriva per prima. Ok? Quattro giri verso destra. Quattro giri verso destra. Plie. Un giro intero. Scendo. Stendo. Giriamo verso destra. Perciò leggermente il peso si sposta sulla gamba sinistra. Per permettere alla destra un pochino di sollevarsi. Mantengo la testa. Arrivo. Plie. Stendo. Quattro e quattro. Senza fare cu de pie. Gambe unite. Senza fare questo. Ok? Senza sollevare troppo la gamba. Leggermente la sollevo da terra. La gamba destra. Con la mezza punta. e cerco di tenere le gambe unite fino alla fine. E colpo di testa. Proviamo? Siete pronti? Vai. Posizione. Vai. Quattro, 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 quattro. Due. Plie tre. Re leve quattro. Vai. E lascio. E arrivo. Lascio e arrivo. Lascio. Arrivo. Molto bene. Lascio. Re leve. Su. E lascio. E arrivo. Molto bene. Verso destra. E arrivo. Lasciame lo sguardo. Veloce. Molto bene. E plie. Giro. Plie. Stendo. Plie. Giro. Plie. Stendo. Plie. Giro. Plie. Stendo. Molto bene. Piego. Giro. Piego. Stendo. Piego. Giro. Piego. Stendo. Piego. Giro. Piego. Stendo. Ultimo. Ok. Bravi. Bravissimi. Bravissimi. Girava la testa un pochino. Eh? Bisogna abituarsi. L'importante è veramente non fare questo. Cioè la testa, il colpo di testa non deve avvenire per questa inclinazione. Esatto. Pensate proprio allo sguardo che rimane così rimane tutta la testa dritta. Ok? Non c'è inclinazione. Lo sguardo rimane, lo sguardo arriva. Ok? Poi è importante nel giro intero tenete le gambe unite con la forza degli adduttori. Non lasciate andare una gamba subito. Ok? Perché poi saranno i reti re. Sarà il vostro giro che mantiene la posizione fino alla fine. Io direi è carino, lo rifacciamo una volta. Cosa dite? Sì, però sempre verso destra perché sinistra potrebbe essere un problema. Ma cosa dite? Destra. Vai! Due. Pliè. Rilevo. Vai! Uno e due. Tanto non ti fermare. Ia pa 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 pa. Ia pa pa pa. E là. Sì. Vai! Pliè. Rilevo. Vai! Secondo gruppo. E arriva. Giro, giro, giro e arriva. E giro, giro, giro e lascia di più la testa. Lascia di più la testa, lo sguardo a me. Primo gruppo. Piego, giro, piego, stendo. Piego, giro, piego, stendo. Piego, giro, piego, stendo. Ultimo. Vai secondo gruppo e piego. Giro, piego, stendo. Sì. Senza inclinazione. Senza inclinazione. Esatto. Ultimo. Tutto bene. Bravissimi. Riposo. Vai. Saltiamo. Sempre questa suddivisione. Primo gruppo. Secondo gruppo. Trampolini in sesta posizione. Come se ci fosse sotto ai vostri piedi un tappeto elastico. Pam, pam, rimbalzo, pam. Però, mentre le gambe continuano, i piedi fanno i trampolini, le braccia fanno. Partiamo dai sui fianchi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Facciamolo una volta insieme. Salto poco perché parte tutto. Ci siete? Allora, quante volte te lo spiego? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Primo gruppo. E subito a seguire il secondo. Quattro volte. Andata, ritorno. Andata, ritorno. Uno, spalla, spalla, terza, terza, spalla, spalla, fianco, fianco. Ok? Gambe in sesta, trampolini. Proviamo? Prontissimi. Vai. Telefono. Eccolo qua. Perfetto. Vai. E spalla, spalla, terza, terza. Ancora. Vai. Sì. E spalla, spalla. Sì. Ancora. Su, su. Bene, bene. Riposo un attimo. Lo rifacciamo. Questa volta partono loro. Invertiamo. Succede. Ci siete? Prontissimi allora, eh? Vai. Bambi ok. Vai. E. Salto. Salto. Spendo le ginocchia. Piedi. Esatto. Bravi, bravissimi. Bravi, bravi. Ricordatevi, è durante il salto. Pietro. Ticossato. Piede, ginocchia. Tivo. Molto bene. Molto bene. Ok. Andiamo avanti. Facciamo. Ritorniamo. Prima comoda. Prima comoda. E due. Uno. Due. Tre. Veloci. Batto. Batto. Tre. Veloci. Insieme. Braccia in prima. Stop. Secondo gruppo. Prima. Prima. Tre. Veloci. Prima. Braccia. Mani. Scusate. Mani. Tre. Veloci. Insieme. Gambe e mani. Batto. Batto. Tre. Veloci. Prima. Riprende il primo gruppo. Rifà la stessa parte delle gambe, delle mani. Ma l'ultima volta andiamo in seconda posizione. Voi e voi. Ci siete? Due sottelenti. Tre. Veloci. Batto. Batto. Tre. Veloci. Preparo. Insieme. Insieme. Tre. Veloci. La prima volta con le braccia in prima. La seconda volta con le braccia in seconda. Ci siamo? Vai. Tre. Plie. E. Tre. Veloci. Plie. Vai. Insieme. Insieme. Prima. Vai. E. Mani. Insieme. Vai. Prima. E vai. Ancora. Solo mani. Insieme. Vieni per i piedi. Seconda. E vai. E. Prima. Prima. Seconda. Seconda. Sto. Tutti in seconda. Andiamo un po'. Seconda posizione. Sostengo questi gomiti. Non li lascio cadere. Attivo la schiena. Sostengo i gomiti. Le braccia non troppo indietro. Più avanti. Molto bene. Allonge. E. Chiudo. Bravissimi. Sì. Dai. Veloci perché voglio fare ancora due esercizi. Se perdiamo tempo non ce la facciamo. Super veloci. Ma che ore sono venti? Tre venti. Dai. Dai 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 bimbi. Forza. Coraggio che ne facciamo un altro. Vai. Gruppone. Gruppo unico diviso in due. Io ve lo faccio vedere intanto con la musica. Una tarantella. Mamma mia. Siamo proprio italiani. Tarantella. Napoli. E. Tacco. Punta. Tacco. Punta. Tacco. Prima. Sinistra. E. Un. Due. Tre. Quattro. Un. Due. Tre. Quattro. Un. Due. Tre. Quattro. E l'altro gruppo. E. Tacco. Punta. Tacco. Punta. Tacco. Prima. Sinistra. Tacco. Punta. Tacco. Punta. Tacco. Prima. Quattro. Un. Due. Tre. Spere. Tacco. Tacco. prima, ripeto a sinistra, tacco, punta, tacco, punta, tacco, prima, quattro muette davanti con la destra, uno, due, tre, quattro, sinistra, uno, due, tre, quattro, quattro alternati, destra, sinistra, destra, sinistra, plie, stendo altro gruppo, ma voglio vedere partire voi, pronti? Eh lo so, dai, quasi finita, resisti, resisti, ci siamo? Dai, coraggio, concentrate, andiamo. Destra, tacco, punta, tacco, punta, tacco, chiudo, sinistra, sì, quattro, un, due, tre, quattro, cambio, 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 e altro gruppo, vai, e, sinistra, sì, e, un, due, tre, quattro, cambio, e, plie, sto, non importa, non importa, bravi, bravissimi, bravissimi. Facciamo ancora una volta? Sì, 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 però facciamo così, cambiamo le file, no, allora questa parte da qui in poi passa dietro e voi avanti, dai, coraggio, forza e coraggio. Eh, se volete fare i ballerini, vi vergognate, direi proprio che non si può, un ballerino non può essere vergognoso, cosa dite? Vai, perfette, pronte? Sì, dimmi, vai, vai, tu stai da questo lato di qui, molto bene, partite voi, oh, lo voglio vedere bene con la testa, eh, testa, 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 ok, anche gli ambuatté, testa destra, testa sinistra e quattro alternati, forza e coraggio, vai. C'è, e, cinza, sinistra, quattro, un, due, tre, quattro, cambio, e, un, due, tre, quattro, molto bene, vai, punta, sinistra, quattro, gira la testa, quattro, gira la testa, e cambio, 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 sì, bravi, bravissimi, molto bene, molto bene, bene, allora, ci sarebbe una diagonale da fare, ma mi sa che non ce la facciamo, il tempo, ora che vi spiego l'esercizio e lo facciamo, è tardi, facciamo un por de brai, ci salutiamo, facciamo un inchino tutti insieme, ritorniamo alla, ah no, possiamo lasciare così, giustissimo, poi lo facciamo due volte, va bene? bene, allora, ripetiamo l'inchino due volte, ok? Allora, la parte dietro, aspetta, fa prima la parte avanti, poi ci scambiamo e lo ripetiamo, ci mettiamo in una prima posizione comoda, e facciamo, destra, piccola lunge, sinistra, e un piede dietro, e un grande inchino, e stendo, ci siete? Vai, non dico altro, mi avete capita, prima, grazie, grazie mille, grazie, vai, altro gruppo davanti, ripetiamo l'inchino, ok, così ci salutiamo tutte, se no, allargatevi bene, allargatevi bene, vai, ah, scusate, ci sono i maschietti, eh? Mamma mia, dove sono i maschietti? Dove sono i maschietti belli? Ok, allora, niente cu de pie, i maschietti, allonge, allonge, mano, e solo testa inclinata avanti, ok, scusatemi, scusatemi, vai, i maschietti lo rifanno, pronti, posizione, vai, vai, tocca a voi, eh, posizione, forza, con i maschietti che fanno un'altra cosa, ma anche voi, vai, e allonge destra, e sinistra, e inchino, e stendo, bravi, grazie, grazie mille, vai, andate a bere, andate a bere, Sì, 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 certo, certo, certo.